Noi discepoli di Gesù, noi Chiesa, stiamo seduti aspettando che la gente venga o sappiamo alzarci, metterci in cammino con gli altri, cercare gli altri? È una posizione non cristiana dire ma chi vengono? Io sono qui, chi vengono? Vai tu a cercarli. Dà tu il primo passo. Non dobbiamo attendere di essere perfetti, di aver fatto un lungo cammino dietro Gesù per testimoniarlo, no. Il nostro annuncio comincia oggi, lì dove viviamo. E non comincia cercando di convincere gli altri, convincere no, testimoniando ogni giorno la bellezza dell'amore che ci ha guardati e ci ha rialzati. E sarà questa bellezza, comunicare questa bellezza a convincere la gente, non noi, lo stesso Signore.